Non è però così semplice ottenere lo spazio per cremare un proprio familiare nella città sacra. Prima bisogna riuscire ad avere il consenso da lui, il leader delle cerimonie di cremazione. Questo è il sole e il sole, il cielo e il sangue del corpo. A presto quando la bordo di una sua morte, aiutato il corpo per meno 2 ore. Maximum per 3 ore per uccano il corpo perität che vive. Ci sono i cremazione di di un giorno, 200 ozio, 300 ozio, sguardo ci sono i ragazzi. Dopo, si ottenere i ragazzi in Ganga.